Levico Terme vi dà il benvenuto ai mercatini di Natale e dopo il giretto di Trento oggi andiamo a visitare i mercatini a Levico Terme Valsugana Trentino e in Valle Incantata è già inverno è già inverno con la Valle dei Mocani il ristorante rosa alpina amagacaburbis buongiorno 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 caro come andiamo qui benissimo siamo ritornati in un altro posto a Levico quest'anno benone benone e ora aspettiamo tutti qui al ristorante rosa alpina la Valle dei Mocani e cosa offrono al ristorante rosa alpina e poi i straboi e dopo due novità il Speckman col quino mugo e il Grinch con il succo di mela solo da noi benvenuti benvenuti allora vi aspettiamo ciao grazie oh buongiorno buongiorno ah ma c'è anche la casetta della bottega di Efren certo ci siamo dappertutto buongiorno come va come va bene bene molto bene partita col botto col botto poi lo faremo noi il botto ma adesso e ieri come è andata la prima giornata benissimo benissimo tutti contenti tutti molto molto soddisfatti anzi bella gente bel tempo tutto bene allora noi continuiamo il nostro giro bene ciao 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 e come tutti gli anni ecco a voi il brule grande e lo caccia sempre con forza per forza partiti col botto e ieri sera o ma tutti si organizza qua certo certo organizzazione al top come te d'altronde si passano gli anni e migliorano tutti questa scritta credo che faccia proprio per noi di viva la fuga perché tutti abbiamo bisogno di credere in qualcosa io credo che mi farà una birra e allora a farci una birra andiamo qui dove ci sono tutte queste birre vedete ce ne sono di varie qualità e come vedete c'è la nostra amica birra forse ma dietro le birre c'è chi ve le vende le birre eccoli qua ciao ragazzi allora comandiamo verone sempre bene sempre bene questo mercatino partito col piede giusto ma sì a me piace e mi sembra che sia partito anche con una birra giusta allora si beve sempre una birra birra artigianale trentina benissimo e allora noi a tutta birra andiamo a fare il giro del mercatino ciao 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 Grazie a tutti.